Una vita che vengo e il giorno che non vengo sto male Vengo ogni giorno, prendo il mio pane, a volte chiedo qualche cosolina in più perché ho la famiglia numerosa Però ti aiutano, io sono un valido, però non vado a chiacchiere, ho portato in un piccio documenti e ho fatto vedere i documenti Perché c'è tanti che dicono per due, per tre, per quattro, per cinque Lei da quanto viene qui? Sono quasi sette anni E cosa porta via? Quando porta via è quel che mi danno, tutto quel che mi danno e poi loro lo fanno dentro il volontariato Io lo faccio fuori, c'è una signora che non viene, viene ogni tanto, la roba che mi danno in più, Angela lo sa, il capo E me le dà e io le porto, anche lui è disponibile, dice Francesco, quando c'è disponibilità te la danno Sono 13 anni che sono qui a Pana Cotidiano Prima facevo il volontario normale, dopo ho preso la menzione del responsabile dei volontari Il numero degli italiani che vengono alle messe a questi centri di raccolta è in aumento Sì, è aumentato moltissimo Per me sono aumentati il 50% le italiane nostre Prima erano 200-300, adesso erano anche 500 ogni giorno Perché prendono 600 di pensione, 400-600 la minima e cominciano a fare? L'affitto della casa, il cui paga di meno paga 300 euro Come fa a vivere? E anche io prendo la minima pensione, non è che prendo queste cose Io sono venuta qua a chiedere di mangiare quando aveva bisogno La generosità è un talento che Dio ha dato a ognuno Così io penso che dare una mano qua mi fa sentire almeno viva, utile E per quello sono venuta a farla volontaria Questa struttura è stata fondata nel 1898 Da allora non si è mai fermata, neanche durante gli anni della guerra Gli ospiti siamo arrivati a averne circa 700.000 all'anno Tra i due centri, noi abbiamo questo centro che è in Viale Toscana al 28 e l'altro è in Viale Monza Questo è un supermercato perché per noi è un supermercato gratuito Io dalle 5 a 4 che sono le impiedi, le melanzane di ieri ho già fatto la parmigiana Ho già stirato, adesso vado a casa E poi a mezzogiorno vado a mangiare nelle menze del comune Vado a saponare, vado a mangiare Oggi vado a saponare, vado in tricolore Ringrazio Dio che mangio, poi me ne vado a casa Ringrazio Dio che mangio, poi me ne vado a casa Ringrazio Dio che mangio, poi mi ne vado a casa Grazie a tutti.